Si è svolta, presso il comando della Polizia Municipale di Pordenone, la cerimonia di assegnazione dei distintivi di grado a 33 agenti del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale Pordenone-Roveredo in Piano. Il comandante, Arrigo Buranel, ha formalmente consegnato i gradi, mentre l'assessore comunale alla sicurezza e Polizia Municipale, Flavio Moro, ha commentato così la cerimonia. Siamo qui oggi a compiere l'atto finale di un percorso anche formativo nei confronti della Polizia Municipale di Pordenone. Consegneremo i gradi a oltre una trentina di agenti della Polizia Municipale che, a seguito di una serie di interventi anche di tipo formativo, hanno acquisito il grado superiore. Questa operazione è conclusiva di un percorso che è durato parecchi anni. Il riconoscimento del grado significa anche una maggiore responsabilità nel ruolo, per cui questi agenti oggi sono stati formati adeguatamente anche per avere una maggiore responsabilità nella loro attività nel corso della giornata. Chiaramente questo non significa che noi avremo persone che lavorano in ufficio o comunque che fanno un'attività di comando, ma avremo delle persone con una maggiore responsabilità e che continueranno a svolgere la loro attività sul territorio della città di Pordenone per il bene e la sicurezza della nostra città.